Un posto al sole Un posto al sole, anticipazioni 2-6 ottobre, un doloroso addio Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana, Angela e Franco si lasciano. La prima puntata di Un posto al sole è andata in onda nel 1996. Dopo quasi 22 anni e più di 4800 episodi, il successo della SOP di Rai 3 continua. Dal lunedì al venerdì, alle 20.40 circa, quasi due milioni di telespettatori si sintonizzano sulla terza rete Rai per seguire le appassionanti vicende degli abitanti di Palazzo Paladini. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano Shaw una storica coppia si dirà addio. Silvia e Arianna si trovano in disaccordo quando devono scegliere l'azienda cui affidare i lavori di ristrutturazione del caffè Vulcano. La tensione tra le due donne rischia di rovinare anche l'amicizia tra Michele e Andrea. Rossella, sempre più gelosa di Patrizio, decide di marcare il territorio con Asia. Matteo nasconde un grave segreto che potrebbe compromettere la ritrovata armonia con Marina Giordano. Franco, deluso dagli atleti della sua palestra, prende una decisione inaspettata e va a lavorare nel garage di Peppino. Angela non la prende affatto bene. Il loro rapporto, ormai logoro, giunge a una svolta decisiva e, forse, definitiva. Filippo, oltre a preoccuparsi dei cantieri, deve badare anche al padre Roberto che commette una leggerezza dopo l'altra ultimamente. Ugo ha un'idea per incrementare il lavoro allo studio legale, Nick e Susanna saranno d'accordo?. Un posto al sole, trame dal 2 al 6 ottobre, il lato oscuro di Matteo. Le anticipazioni di un posto al sole dal 2 al 6 ottobre svelano che Franco e Angela decideranno di non vivere più insieme. Nico accetta l'idea di Ugo di difendere Luca Grimaldi. Max Pelluso chiede ad Ornella di fare una sorpresa a Chef Parade a Patrizio e Raffaele che rimangono spiazzati. Arriva il giorno della separazione tra Franco e Angela. Renato organizza una sorpresa per Nadia. Marina in costiera fa un incontro inaspettato. Rientrata a casa, scopre il lato più oscuro di Matteo. Patrizio si chiede se non sia il caso di scendere a qualche compromesso per vincere Chef Parade e approfitta del debole che Asia ha per lui. Come reagirà Rossella? Nico si recca in carcere con Ugo per incontrare Luca Grimaldi. Poggi accetterà davvero la sua difesa o alla fine si tirerà indietro per non creare dissapori in famiglia? Mariella vuole organizzare una festa per il pensionamento di Otello ma l'impresa si rivela tutt'altro che facile. Dopo la decisione di Franco cosa altro accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole?. Grazie a tutti.